Buonasera, benvenuti a 90esimo minuto serie B, una quinta giornata che riserva emozioni e sorprese con il Cagliari che supera il Livorno, sorpreso in casa dallo Spezia, mentre avanzano oltre allo Spezia il Cesena e il Crotone. Buonasera anche a Mario Somma, buonasera a Vincenzo D'Amico e buonasera al capitano dell'Entella, Gennaro Volpi, oggi non è andata particolarmente bene. Buonasera, purtroppo in questo momento i risultati non ci stanno dando ragione, è un periodo negativo e speriamo di uscirne presto. Adesso parliamo, Gennaro Volpi, ahimè di Trapani-Entella 4-2, ma una Trapani che ha vinto in maniera meritata, come ci racconta Roberto Quelli. Tre punti dividono in classifica Trapani e Virtus-Entella, in 5.000 arrivano al provinciale, i siciliani di Cosmi arrivano da tre pareggi consecutivi, l'Entella di Aglietti da tre K.O. di fila, l'ultimo casalingo e condito da polemiche con il Cagliari. Cosmi con la migliore difesa del campionato, due gol subiti, in attacco schiera Torregrossa e Citro, ispirati dal brasiliano Coronado. Liguri, fino ad ora senza gol in trasferta, ha squalificato Volpe in attacco con il tridente Fazzi, Caputo e Sestu. Prima convocazione per il nuovo acquisto Palermo, l'arbitro è Pasqua di Tivoli, 53esima direzione in Serie B. Al settimo, attacco dell'Entella, il colpo di testa di Costa Ferreira viene bloccato dal portiere Nicolas. All'ottavo risponde il Trapani, tiro di Citro da fuori aria parato da Iacobucci. Quindicesimo, attacco Trapani, clamorosa occasione fallita dall'attaccante Granata. Torregrossa, servito dalla sinistra. La punta del Trapani fallisce da due passi. Diciannovesimo, ancora Trapani in avanti, Coronado serve in profondità Citro, ma è bravo il portiere a deviare in angolo. Ventiduesimo, azione ancora dei padroni di casa, Torregrossa in aria viene messo giù da Sini. Rigore per l'arbitro Pasqua, proteste da parte dei Liguri. Scozzarella dagli 11 metri non sbaglia, 1-0 per il Trapani. Trentaquattresimo, il pareggio dell'Entella, azione d'angolo e colpo di testa vincente da parte di Capito. Tantroiano, che supera Nicolás, 1-1. Quarantasettesimo, vantaggio Trapani, con Billà solo in aria di testa, batte il portiere dell'Entella, 2-1. Con il montaggio di Toni Pelledito passiamo alla ripresa. Girandola di sostituzioni operate dai due allenatori Cosmi e Daglietti. Al diciannovesimo, dopo aver sofferto, arriva il terzo gol del Trapani, fa tutto Citro, conquista la palla. Arriva davanti al portiere Iacobucci e lo batte con un delizioso pallonetto, 3-1 per i siciliani. Ma l'Entella non ci sta e torna in partita. Ventottesimo, Trapani distratto in difesa e raddoppio dei Liguri, con il nuovo entrato Pektovic. Controllo, rientro sul destro e portiere battuto. Cosmi va su tutte le furie con i suoi ed il direttore di gara lo allontana. Espulsione che scuote la squadra, che subito in attacco alla mezz'ora serve il poker. Ancora in rete Citro per il 4-2 e doppietta personale per la punta. Bella partita, ricca di gol, 3 punti d'oro per il Trapani, tornato alla vittoria dopo un mese. Granata imbattuti, quarta sconfitta consecutiva per l'Entella di Aglietti. Si fa dura per il tecnico. Festival del gol, dunque a Trapani, migliore in campo. L'attaccante dei Granata siciliani Citro, schierato a sorpresa da Cosmi, autore di due reti decisive. Da rivedere l'Entella. Ribadisco il finale al provinciale. Trapani 4, Entella 2. Da Trapani è tutto, linea Roma. Allora, il voto è di Vincenzo D'Amico su questa partita? Sette. Sei gol e una partita che finisce solamente al 94esimo. Manca Capitan Volpe ed ecco lì che l'Entella. Però io credo che, Gennaro, l'episodio determinante, importante, sia stato il 2-1 di Barillà, proprio sul finire in pieno recupero del primo tempo. Lì è successo qualcosa? Sì, purtroppo abbiamo subito questo gol che, insomma, andare a fine primo tempo sull'1-1 forse sarebbe stato meglio. Oggi è stato sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime partite. Ma cosa vi manca un po' in attacco, la difesa? Qual è il reparto che ha bisogno di essere un po' puntellato? Diciamo che in questo momento forse paghiamo il fatto di aver fatto mercato in ritardo, insomma, per tutto quello che è successo. Però credo che la squadra sia una buona squadra, che ha bisogno di tempo perché ci sono tanti giovani. Però credo e spero che si possa fare meglio. Qualche attenzione in più dal punto di vista degli arbitri perché obiettivamente sono molto penalizzati. Centella, comunque sia, è nella top generale grazie soprattutto al lavoro del presidente Antonio Gozzi perché Chiavare, ricordiamo, con i suoi 25.000 abitanti è il comune più piccolo della serie cadetta. Eppure, nonostante questo, ha un vivaio. Gennaro, interessantissimo, 500 ragazzi raccolti da tutto il tiguglio. Ogni giorno 30 comuni vengono coinvolti, proprio con pulmini messi a disposizione della società. Queste sono immagini girate da Guia Croce, che tra l'altro per tanti anni è stata anche regista Rai. Ed è un po' questa la vera forza, anche il modo in cui voi coltivate questi ragazzi a dare vita a Lentella. Sì, indubbiamente la società crede molto nei giovani, soprattutto nel settore giovanile. Ci sta investendo tanto. L'anima di questa società è il nostro presidente, che nel giro di sette anni è riuscito a portare questa società dall'eccellenza alla Serie B. E continuiamo su questa politica dei giovani, che l'obiettivo è quello comunque di portare i ragazzi del vivaio fino alla prima squadra. Per il vivaio intendiamo dalla primavera ai cosiddetti piccoli amici, ragazzi di 5 anni. Fra un po' ci sarà anche tuo figlio Marco, che adesso ha 3 anni e mezzo e distrugge casa per il momento. Esatto, per ora distrugge casa e fa disbarare la mamma, però insomma cresce già col pallone in mano. Dai delettante alla Serie B, ma si ferma qui il tuo presidente? Non lo so, in questo momento è importante comunque mantenere una categoria che per la città di Chiaveri è il massimo, credo. Bene, intanto io volevo ringraziare anche Matteo Gerboni, che è il responsabile della comunicazione della società di Chiaveri, appunto dell'Entella. Andiamo a vedere il prossimo turno, la sesta giornata, che comincia venerdì 2 ottobre alle 20.30 con Crotone-Salernitana, quindi uno scontro tutto da seguire. Poi sabato alle ore 15 Avellino-Vicenza, Brescia-Modena, Cesena-Livorno, Como-Ascoli, Entella-Provercelli, Lanciano-Spezia, Latina-Bari, Pescara-Cagliari, Ternana-Novara, mentre lunedì 5 ottobre alle 20.30 Trapani-Perugia. Dove vai Mario? Cesena-Livorno. Cesena-Livorno. Pescara-Cagliari. Pescara-Cagliari. Io li vengo a Chiaveri. Entella-Provercelli. Benissimo. Allora, Entella-Provercelli, io faccio l'imbocca al lupo a Gennaro Volpe, non soltanto per la sua carriera, ma anche per l'Entella e soprattutto per il discorso che abbiamo fatto poco fa con questi ragazzi. Tra l'altro l'Entella è attivissimo anche dal punto di vista della solidarietà, cito un istituto su tutti, il Gaslini. Noi ci fermiamo qui. Grazie a Gennaro Volpe, grazie a Mario Solma, grazie a Vincenzo D'Amico. Ci vediamo sabato prossimo e grazie anche a voi per l'ascolto. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.